Buonasera, buonasera e bentornati. Agidei, saluto subito il pubblico di questa sera, pensate, composto da parlamentari che sono qui solo per votare la sfiducia al mio programma. Fatevi un bel applauso, ci prendiamo tutti alla buvette, a festeggiare o alla baguette. Scegliamo insieme. Questa sera parliamo di donne, di donne che invece di punire il marito piantandolo in asso sono così crudeli da punirlo restando con lui. Ma non prima di aver provato a togliergli tutto fino all'ultimo euro. Stasera nel mio frigo pronto a sciogliersi molto in fretta il dolce più buono della tv italiana, Giulio Scarpati. Buonasera. Giulio! Giulio! Ciao! Ciao Giulio, allora benvenuto. Tenero, affettuoso, perbene, bravo marito. Amante tenero e passionale. Il parcheggi sembra la perfezione. E che palle, Giulio! Pulisco anche la cacca dei cani. Ah, quindi sei un frequentatore del marciapiede? Sì. Vuoi subito dire... Non sono i miei, eh? Anche degli altri. Sempre del marciapiede parliamo, sia chiaro. E vuoi dire qualcos'altro che faccia pensare male di te oltre questa riflessione? No, non c'è da pensare male. No, è da vedere che mezz'ora è lunga, mio caro. Al contrario di quanto voi uomini qualche volta sostegniate. Allora, Giulio, Giulio, Giulietto caro, nonostante questo faccino da ragazzetto giovane e perbene, tu sei quasi un coetaneo di Cavour e hai l'esperienza alle spalle che si nota in un attimo. Guarda qua, la tua biografia, dieci lì che non sono bastate, sono quindici, ma andiamo a condividerla per la prima volta insieme quest'oggi. Romano, 55 anni, attore. Non parleremo di lui come il famoso Lele Martini di un medico in famiglia, per cui questa biografia finisce qui. No, proseguiamo, era per amor di battuta. Ora dovresti ricordare che la biografia è scritta tu e saputa. Madonna, non so. Lavora inizialmente in teatro, ma poi perde il posto perché trovano uno che i biglietti li strappa meglio. Durante la sua carriera ha recitato al fianco di Monica Bellucci, Sabrina Ferilli, ma anche di alcune attrici. Per colpa di un medico in famiglia, molti italiani pensano che lui sia veramente il figlio di Lino Banfi. E sono gli stessi che pensano che Rubi sia veramente la nipote di Mubarak. Presidente del sindacato a Tori non ha nulla da invidiare ai sindacalisti veri, alla tenacia di Landini, la flema di Bonanni, ma soprattutto la messa in piego dell'acamusso. È un grande onore. Beh, insomma, tre nomi importanti, di sicuro. Ma Giulio, abbiamo un po' scherzato con la tua vita, ma va detto invece che tu sei un grande attore? Va detto proprio. Va detto, sì. Ma va detto anche questo, per evidenza dei fatti, che hai una scuola che mi sta per ripartire, per insegnare alla gente a recitare, che è un mestiere, ricordiamo. È un mestiere, sì, ci vuole talento. Si chiama percorsi d'attore e niente, sono venuto qui. Tra l'altro oggi avevo anche i provini, li ho spostati alla settimana prossima. E stiamo facendo i provini e partiamo alla seconda metà di novembre. Percorsi d'attore, ci tengo molto a insegnare perché mi piace scoprire i talenti, ma anche dare appunto valore di mestiere al mestiere dell'attore. Se vuoi farmi un provino, sentiti libero di ogni tanto darmi qualche ordine, dimmi più questo, fammi questo, io lo faccio. Va bene, durante il corso della trammissione... Durante il corso della trammissione è così, sentiti libero di metterti pure in difficoltà come fa chiunque lavori a questa produzione, ok? Grazie, grazie Giulio. Adesso è il momento in cui tutta l'Italia pone molta fiducia, è il momento in cui tutta l'Italia aspetta quella in cui io finalmente sto zitta perché a parlare è la gente per strada e il nostro sommario sono i vostri titoli. La politica mi tocca nel quotidiano, soprattutto Equitalia. La politica mi tocca nel quotidiano, soprattutto Equitalia. Bossi dice che era al bar, però per me è una scusa. Bossi dice che era al bar, però per me è una scusa. Bisogna laurearsi prima e poi fare il censimento. Bisogna laurearsi prima e poi fare il censimento. Qua si fa solo sesso nelle scuole. Ho sempre avuto anche un po' di stile nel vestirmi Ho sempre avuto anch'io un po' di stile nel vestirmi Eh, caro amico, averne anche solo un po' di stile in questi tempi è già un traguardo Giulietto, quale tra questi titoli ha colpito di più la tua immaginazione? Attoria, charmant, fiction di prima serata? Beh, appunto, quello del vestirmi Tu un po' di stile ce l'hai? Non lo so, guarda Un po'? Ma l'ho conquistato nel tempo perché in realtà non sono... Sì, ma l'hai perso subito Subito Prima di venire... Sono sciatto No, sei vestito con sobrietà Sì, no, sobrio, certo, voglio dire, però l'affermazione che ha fatto era bella Nel senso di questo mondo che viviamo adesso, un po' d'apparenza, diciamo Sì, un mondo d'apparenza dove lo stile è latita E dove lo stile qualche volta è in prima, poco prima del Tg di Mentani insieme a me, Matteo Bordone Incredibile, sembrava quasi un complimento, buonasera No, non lo avrai Diana De Feo, moglie, non sappiamo ancora per quanto di Emilio Fede, sta facendo molto Parlare di sé perché ha rilasciato un'intervista a A, dove ha raccontato che quando è scoppiato Lo scandalo Rubi è andata da suo marito e ha detto Ho intenzione di separarmi e di prenderti un sacco di soldi con una causa di divorzio Lui ha fatto notare che non avevano fatto la separazione dei beni, quindi avevano comunque i beni in comune Non c'era bisogno E lei comunque ha sostenuto che vorrebbe intentare causa per danni di immagine e prendere lo stesso dei soldi a Emilio E qui lo stupore deriva dal fatto non tanto che lei in questo momento voglia denunciarlo per danni di immagine, è perché ha aspettato 47 anni di matrimonio prima di farlo E comunque ed è proprio questa, l'ennesima capatina in tribunale della famiglia Fede che si ispira alla nostra gran domanda di stasera La moglie di Emilio Fede preferisce chiedere soldi al marito invece che il divorzio Secondo lei Fede deve pagare i danni per quello che ha fatto alla moglie o per quello che ha fatto al giornalismo? A spiegarvi come votare un uomo che è stato citato per danni di immagine da tutti i parenti di primo grado Sempre Matteo Per votare moglie mandate un sms con scritto 1 al 478 4782 Se invece pensate che le colpe di Emilio siano soprattutto nei confronti del giornalismo mandate un sms con scritto 2 allo stesso numero 478 4782 Giulio, Giulio schierati dai, chi deve chiedere i danni? La moglie di Fede o i suoi spettatori? Giornalismo, 2, votate 2 Ha fatto più danni al giornalismo? Sì Perché? Beh, perché è un po' squilibrato diciamo Beh insomma esistente Cioè Mentana è equilibrato e diciamo è Fede un po' squilibrato Ah ma come sarà felice di questo parallelo Enrico Mentana che di sicuro ci sta guardando, sta scaldando adesso Però il tuo giudizio caro Giulio e quello dei nostri spettatori non preoccupa il nostro Emilio più famoso d'Italia Perché lui ha già incassato la solidarietà della categoria sociale a cui tiene di più Le meteorine Oggi pomeriggio sono scese in piazza Milano 2 in difesa del loro direttore Dovremmo avere delle immagini esclusive Non preoccupatevi se non le avete riconosciute tutte E che nei filmati erano molto più vestite di quando fanno le previsioni in tv Giulio però una curiosità Allora tempo fa sono emerse delle telefonate di un certo tipo Su come si lavora in Rai, nelle fiction, che bisogna essere amiche di chi sei tu come Vonda è morto Di chi sei tu Tu come sei arrivato in prima serata, a chi hai dovuto dare il curriculum? No, quello veramente, no, quello era solo scritto, era la biografia che hai letto te Quello ho mandato Hai dato quello e hai avuto tutto questo successo Ma tu sei molto ad eso in Rai, cioè se io sono molto carina con te ho più chance Non mi toccare così No, stavo cercando di capire come funziona per lavorare Ecco, quello che stavi facendo al frigorifero era il modo giusto di approcciare un incontro con qualcuno Era il modo giusto per essere sicuro di avere una carriera breve? No Di averla? Di averla Di ridarla, di averla indietro Sì A proposito di cose passeggere, il turno del mio di Meteorino Ci sono altre, parlavo di te Matteo Ci sono altre relazioni in crisi per colpa dei tradimenti Dubbio, sì, questa volta a essere tradito è il conquistatore per eccellenza Almeno a sentir lui, ovvero Silvio Berlusconi A causa dell'assenza di alcuni esponenti della maggioranza Ieri il governo si è visto bloccare il consuntivo di bilancio in soldoni Questo vuol dire che da un momento all'altro potrebbe cadere il governo Stupisce che a non votare siano stati dei veri e propri big Per usare una terminologia sanremese Dell'esecutivo in carica come Tremonti, Scaiola, Bossi E il ministro degli esteri di cui al momento mi sfugge il nome Giulio, perché hai queste dimenticanze? Beh, forse è anche colpa sua Perché fai informazione tendenziosa? Me lo ricordo sulle piste da sci Le cose vanno dette, fatti senza opinioni innanzitutto Poi le opinioni le aggiungiamo noi e i nostri ospiti Giulio, cosa fa più sensazione nell'immaginario italiano? Tremonti che tradisce il suo governo O di più, secondo te, l'ele di un medico in famiglia Che tradisce la moglie con un ballerino giamaicano? Scusa, l'ele mora mi parte in automatico quando dico l'ele Ovviamente la seconda La seconda? La seconda funziona di più Il tuo personaggio non tradirebbe mai nessuno con un ballerino giamaicano come farebbe invece l'ele mora Io però ho minacciato Era froidiano il mio Io ho minacciato di farlo Tu personalmente o il tuo personaggio? Sì, ho detto faccio qualcosa per cui rendo incompatibile la mia presenza con l'ele E invece non ce l'hai fatto? E invece poi non ce l'ho fatta Si chiama coscienza, tienitela cara Va bene Per mettere in guai serissimi l'uomo che ti ha nutrito comunque, coccolato e bonificato per 15 anni Come hanno fatto queste persone, quest'oggi che non hanno votato ieri, anzi che non hanno votato Bisogna avere delle giustificazioni più che valide Allora in questo caso tutti gli assenti, devo dire, erano giustificatissimi Noi abbiamo raccolto le loro dichiarazioni così sappiamo le vere motivazioni per cui questi bei manzi non sono andati a votare E a momenti facevano cadere ieri il governo Queste sono le motivazioni Umberto Bossi Votazione, quale votazione? Ha esclamato il ministro Traditori, io non so se tu hai visto lo sketch tra la prestigia come Berlusconi subito dopo il voto No, che facevano? Adorabili, scaramucciavano, cioè tubavano Oppure sei visto Tremonti che se n'è andato tipo Rossellorio in via col vento? No, ho visto il gesto di Berlusconi a Tremonti col foglio così che diceva Come dire, ma cosa c... Era abbastanza evidente Si chiama il linguaggio del corpo Ma c'è qualche... Smettila di provocarmi C'è qualche politico che metteresti in una tua fiction? Beh sì, la prestigia come una fiction E con quale ruolo? Il capo della clinica Non aggiungo altro Non aggiungo altro E dopo questa grande presenza che mi sta alliettando il tardo pomeriggio E a proposito di interpretazioni Uno dei non votanti di ieri è una vecchia conoscenza di Gidei e delle erboristerie omeopatiche di Messina Domenico Scilipotti Secondo noi un grande, un grande, un grande attore Ma anche su questo tema vogliamo un tuo parere Te lo faccio vedere in un classico del teatro comico contemporaneo Guarda Ma è normale, è normale mettere una telecamera in faccia a una signora di 90 anni Anno zero Di 90 anni per dire ma lei che cosa ne pensa di politica nazionale? Non t'alzare, non t'alzare Di politica nazionale Se ne va via Mia madre ha 90 anni Che cosa pensa della politica nazionale? E questo suo figlio è un delinquente, un mascalzone E sono onesti loro che gli sbattono la telecamera in faccia E poi non ha diritto di andare in televisione a parlare Perché stasera diranno che è un mafioso, un delinquente Che ha fatto, che ha battuto le torri gemelle Ma hai visto che energia, come mi occupava lo spazio Come interagiva con gli altri attori No, poi c'era un crescendo forte Eh, Rossiniano, così Bravo, bravo, bravo Intenso Lo voglio nella mia scuola Perché si dimetta da parlamentare Io sono, gratuitamente può fare il corso Domenico, c'è un post, c'è un futuro come attore Sì Con Giulio Scarpati Sì, sì, assolutamente Che ruolo in quel ruolo lo vedrete? No, prima deve studiare Portantino Portantino Da solo Da solo, poi Una diagnosi perfetta Anche a livello metaforico, caro dottor Martini A questo punto, però, noi vorremmo dare a Sciripoti quello che si merita Senza sconfinare nella violenza Allora, cosa facciamo? Proviamo a dargli quello che desidera Prima di entrare nella scuola per attori di Giulio Scarpati Una pubblica riabilitazione Basta associare Sciripoti al tradimento Non possiamo più fare questa cosa Se no, come studente, tu non lo vuoi Ad aiutarci c'è più che uno scrittore in erba Uno scrittore in mirto Il mio amico Flavio Soriga Salve a tutti Flavio Devo abilitare, riabilitare Sciripoti Ti aspetta un compito difficilissimo Io non lo volevo fare, mi hanno rapito Sono primo sardo rapito da una banda di milanesi Capitanati da una sarda e il circolo mi si chiude Pensi di potercela fare o vuoi scappare come farebbe lui? No, lo posso fare, ma la prossima volta, se volete, posso parlare bene anche di Tarantini Sono qua per questo Non aspettavo altro Per infognarti in questioni sociali Comunque Sciripoti io non lo volevo fare Me l'hanno chiesto nel caso Aspetta che devo dire le regole del gioco Che non è che come il fantastico sei con Interparisi e Pippo Baudo Che tutti sanno cosa stai per fare È la seconda volta Che noi coinvolgiamo Flavio, grande scrittore in questa impresa Oggi pomeriggio alle 5 Gli abbiamo chiesto di comporre un discorso In difesa di Sciripoti Che contenesse queste parole Influenza aviaria Divieto di sosta Kebab Scorporo dell'IVA Reincarnazione Ma chi le ha scelte queste parole? Comunque lui che obbedisce ha preparato per noi questo discorso 5 parole e un timer Vai con una riabilitazione bomba Flavio, vai Lo scorporo dell'IVA si ripeteva Sciripoti Lo scorporo dell'IVA si ripeteva passeggiando tra l'ola e la buvette Lo scorporo dell'IVA pensava, ripensava a un piano per l'economia nazionale Che la potesse risollevare Non la sua personale di economia Ma quella dell'Italia E il piano prevedeva il lancio del kebab italiano Col marchio garantito etnico tradizionale Prodotto da un'azienda alimentare statale Con uno spot strepitoso alla televisione Con la Marcuzzi che diceva alla cucciari Mmmh il kebab nazionale così leggero che ti fa levitare Però pensava Sciripoti L'IVA del kebab la scorporiamo Ci finanziamo la nuova cura per la nuova influenza autunnale prossima avventura Corsi di metempsicosi per tutti E chi non guarisce avrà la reincarnazione garantita In un giovane tronista fustacchione sicuro al limone E mentre pensava, elaborava, legifrava Quel buon Sciripoti vide una vigilesse, un fisico da sogno A metà tra la canis e la cucciari Che gli portava via l'ottovettura Aveva parcheggiato in divieto di sosta in tripla fila Per la fretta e la distrazione E sbottò di rabbia e maledì Se mi rincarnerò quel dì pensò non voglio fare certo il parlamentare Ma starmene al mare a cucinare Che baba alla trota, al tonno e allo storione E bravo Fabio Che è voluto tutto il tuo talento Ma ce l'abbiamo fatta Missione compiuta Sciripoti riabilitato Giusto in tempo per il prossimo salto della quaglia Ma non ci sembra, ci sembra ingiusto Ci sembra molto ingiusto parlare solo dei tradimenti a destra C'è un presidente del consiglio Che è stato tanto tradito anche a sinistra E per consolarsi si è dato alla tv Ieri sera Romano Prodi è entrato nella grande famiglia di La Sette Con un programma intitolato Il mondo che verrà Ha fatto grandi grandi ascolti E un motivo c'è Il primo è che la gente quando dorme non cambia canale Il secondo è il carisma E la chiarezza espressiva di Prodi Per chi se la fosse persa ieri sera Noi ve la riproponiamo Guardate Che cosa possiamo fare noi oggi Per il miliardo di persone affamate E l'altro miliardo di persone denutrite Ringrazio il professor Prodi Arrivederci Benvenuto Romano Benvenuto Romano Ovviamente Giulio il programma non è stato tutto così Ci sono stati anche dei momenti più noiosi Ma guarda bisogna diffidare dai politici che sanno parlare bene Quelli bravi fanno e basta Beh allora lui però lui se l'è già giocata comunque Però per me era bravo Bisogna anche stare attenti Guardatevi subito la replica sulla 7D Perché prima della seconda puntata Prodi potrebbe cadere per colpa di D'Alema Quindi state attenti Per restare in tema di gente che andrebbe sostituita Matteo Che però purtroppo non ha vinto due volte contro Berlusconi È uscito il nuovo dizionario Zingarelli 143.000 definizioni per altre tante parole che compongono la lingua più bella del mondo Almeno a sentire gli italiani ovvero la nostra Come ogni anno c'è grande curiosità attorno alle parole che vengono inserite Quelle nuove Ne cito solo due Digital Divide e Cloud Computing Allora ti consiglio caro Matteo di dedicare anche la tua attenzione ad altre parole del dizionario Tipo barba, depilazione definitiva e fidanzate e anche vita sessuale Si parla E tu cosa ridi? Cosa ne stai? Si parla però sempre delle parole che entrano nel vocabolario E mai di quelle in via d'estinzione Quelle che rischiano di scomparire Invece vanno adottate Adottiamo oggi una parola che mi sta per scomparire Termini come, che so, prostituta È un tecnicismo per identificare una donna di strada Sostituito dalla parola escort Parola che indica una donna che di strada Invece ne ha fatta Eppure parecchio Quindi prendiamoci quella della parola Usate di più la parola prostituta Giulio, Giulio, tu sei un volto Rai da decenni Quali sono le parole che secondo te sono uscite per sempre Dal vocabolario della TV di Stato nel 2012? Obiettività? Fatturato? Michele Santoro? Tutto attaccato? Beh, anche innovazione Si innova poco alla Rai Si innova poco, sì Cosa vorresti fare tu? Avessi carta bianca per una fiction Chi, 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 chi ci vorresti? Beh, chi, in che senso? Te, te Sentiti libero, eh Sì, sì, ma tocca al frigorifero Voglio te Come lo zio Sam Io ho la fortuna di avere qui Come non soltanto te Ma lo scrittore È a posto C'è sempre, ecco Flavio è rimasto là Si è dimenticato il nome in 5 minuti No, Flavio Mi dimentico tante cose Ma tranne degli amici Quindi Flavio Giulio Io Matteo Matteo Avendo contemporaneamente Un attore premiatissimo E uno scrittore premiatissimo Non posso rinunciare Dall'istinto di lasciare Di lanciare una sfida A voi di lingua italiana È un gioco caro a tutti noi È un gioco che si faceva da bambini Che si ispira al futuro Del debito pubblico italiano Si chiama L'impiccato Bene, mi hanno detto Ti sorprenderemo con una bella musichetta In diretta Ce l'hanno fatta L'impiccato è l'antenato della ghigliottina In tutti i sensi Allora è semplice Le parole da indovinare Sono tutte scelte Tra le parole nuove Entrate quest'anno Nel vocabolario zingarelli Noi vogliamo dare A queste nuove parole Il benvenuto A nostro modo La prima è una parola composta Da 11 lettere E la quinta è una lettera D Per darvi un aiuto Chiaramente non sarò io Perché non mi sembro in grado Di dare un aiuto Quando si tratta di lingua italiana Ma l'aiuto ve lo faccio dare Da un nostro amico pedone Prego Un termine politico Quando si litigano due politici Che fa vedere uno di quelli Che ha di più attributi dell'altro Amici cari Per prenotarvi dovete fare Con la mano Un termine politico Quando si litigano due politici Che fa vedere uno di quelli Che ha di più attributi dell'altro Un aiutino Nessun aiutino Te lo do Lo diceva quello verde Quello verde per espirazione Quello padano Cielo durismo Bravo bravo Gino scappato No non posso applaudire La parola era Cielo durismo Ostentata esibizione Specialmente nello scontro politico Di grinta e virile risolutezza Quanto manca in questo studio La seconda parola È sempre È una parola nuova Composta da 13 lettere E al suo interno Si cela la R Prego col filmato È la legge Che a fine d'anno In Parlamento Mettono tutti insieme Diciamo Le leggi Che non hanno fatto Da riuscire a fare Diciamo Sembra La fine dell'anno Mi sembra Mille proroghe Allora Uno pari Uno pari Per Flavio Soriga Ha dato diritto pubblico Alla ragazzina Siete molto bravi Con le parole Ma non siete molto bravi A fare una cosa semplice Ah Non lo avete fatto Scusa E l'ho detto Ah Dovete fare Nel mille prorogo E qua si gioca tutto Con quest'ultima carola Parola Ma cosa si vince Geppi? Cosa si vince? Si vince tutta la mia stima Perché non ha prezzo E non ha colore E non ha sapore La terza ed ultima parola A cui diamo il benvenuto Nel dizionario È composta da 10 lettere E in questo caso La quinta è una S Vediamo l'indizio Quando studiano Delle cose molto più piccole Dei fagioli Quando studiano Delle cose molto più piccole Dei fagioli Allora vi do un aiuto Non stiamo parlando Di nessuno di voi Ma è una questione È una questione Legata allo studio Non si lega al celodunismo Scientifico No 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 Spero di no Anche perché sarebbe inutile Se le due pratiche si unissero Perché la parola è nanoscienza Nanoscienza Questa è satira politica Comunque È fantapolitica È satira politica Qui si attacca il premio La scienza che studia oggetti Di dimensioni Dell'ordine dei nanometri Scusate Non volevo rattristarvi Non l'ha vinto nessuno La mia stima Ve la dovete ancora guadagnare E quindi nessuno vince Il vocabolario Italiano sardo Sardo italiano Per seguire meglio Insomma il mio programma In diretta Mi rendo conto Che le parole molto spesso Si affollano in questa boccuccia Ed escono in maniera contemporanea Adesso è arrivato Il momento delle vostre Però di parole Cari amici da casa Perché le parole sono importanti L'italiano è importante Come sostengono Nanni Moretti E Antonio Di Pietro Ne sarete accorti Sulla vostra pellaccia Quella volta Che non avete capito Una parola vi ha rovinati A noi I vostri successi Stanno molto cari Raccontateceli Chiamando questo numero Per dirci di quella volta Che non capire Una parola vi ha rovinato Marco da Sale Marasino Eccomi Marco Ciao Benvenuto Io ci sono Buonasera Pubblico tutto Buonasera ai tuoi ospiti Al paziente Preciso simpatico Matteo Ciao Gerry E non vuoi salutare Anche il vigile urbano Qua fuori No perché mi ha mutato Cavolaccio Sono dedicato Oh lo scrittore Di Forza Eh Forza mi parla Come Celentano È stato quello lui La sardità o sardezza Lì è ben rappresentata La sardità è ben rappresentata E mancano proprio Le altre due cervelli più fini Pamela Prati E Valeria Marini Ma ti salutano entrambe Eh Marco Grazie Sì sì Ecco Ti trovo bene Marco Tanto io Ti trovo bene Il nero Sveglisce sempre Un'ottima scelta Elegante Ma perché tutti quelli Che chiamano Devono commentare Come sono vestita Cioè non sono Ma perché sei vestita Elegante Il nero Sempre molto chic Elegante E il nero Dà quella bella sicurezza Alle femmine Esatto Esatto E mi sta convincendo Domani Mi sto di Fucsia Marco Che cosa fai nella vita? Di lavoro Intendi Io apri il resto Ah Vivi di espedienti No Cioè ti pagano Per qualcosa O vivi di furtarelli Improvvisati Ti pagano Per fare Disegnatore Progettista Tecnico Meccanico Industriale Ingegneristico In centra E da tempo libero Mi diverso Che mi sembra La più parte Della tua vita Marco Da Sale Marasino In provincia di Brescia Brescia Lago di Seo Che tu non conoscerai E io Lago di Seo Ci ho passato Un pomeriggio Raccontami Marco Ci ho fatto lo spettacolo Raccontami Di quella volta Che non capire Una parola Ti ha rovinato Vai Marco Allora sì Ero neodiplomato Primo lavoro Disegnatore appunto Pausa Che entra con lei E si parla sempre Va a finire Parlando male Delle vostre anni Nella superficie Quanto sta che Signor Saccente Io lo identifico Come suo cognome Il giorno dopo L'ho portata L'edizione Io ho capito Ho capito tutto Io non sopporto Non capire le cose Perché non ho Il physique du rol Per non capire Quello che mi succede Qualcuno aveva parlato Di un terzo Come il signor Saccente E poi lui Rivolgendosi a quello Il giorno dopo Ha detto Signor Saccente Buongiorno E quello si chiamava Pigafetta Questa era la gag Ma ci volevano 40 minuti Ciao signor Pigafetta Salutiamo signor Pigafetta Riccardo da Venere Io non sento bene Io non lo sopporto Chi era? Mi avete levato anche Il cartello con il nome No finite le telefonate Perché sono finite Con la spontaneità Decisionale Di una persona qua Che gli ha fatto vedere Un cartello Poi me l'ha tolto Era Riccardo da Vicenza Perché l'ho letto Mica sono cretina Ma comunque Era al telefono Ma parlerà con i parenti Stop al televoto Ecco Ringraziamo il party Di Lalabel Che ha chiuso il televoto Giulio Prima che tu vada via Siccome mi interessa molto Lo scarpato di pensiero Vorrei in attesa Che arrivi il dato Che tu mi dica tre cose Per cui secondo te Non vale la pena vivere Ma per esempio Quando ci sono quegli annunci Che ti dicono sul computer Hai vinto Cioè il centesimo utente Hai vinto Non so una cosa fantastica Non cascateci Poi? No quella no Poi direi Boh Le file Le file? Tutte le file Tutte le file burocratiche Le file? Le file poi? File Solo file Burocratiche E poi Chi non apprezza La mozzarella di bufala Eh lo so È una battaglia Che stiamo portando avanti Da tanti anni Questi di chi non apprezza La mozzarella di bufala Dato e tratto Quindi vado a rileggere La nostra grande domanda Di quest'oggi La moglie di Emilio Fede Preferisce chiedere soldi al marito Invece che divorzio Secondo lei Fede deve pagare i danni Per quello che ha fatto Alla moglie O quello che ha fatto Al giornalismo Sono quasi tutti D'accordo con te D'accordo con te Caro Giulio Il 96% Ha scelto il giornalismo Come settore Da risarcire Tanto comunque Emilio Fede Si trattiene Il 30% Della somma Comunque Si ha Fede Ha appena finito Il suo TG Tra pochi minuti Sulla sede c'è il TG Del suo amico nemico Enrico Mentana Per voi Per noi E per Emilio Fede E per la sua futura ex moglie Le anticipazioni Del TG Di Enrico Mentana Economia Ad aprile Un software Che prevede Le crisi mondiali Attraverso Facebook E Twitter Per prevedere Quella italiana Si collegherà Anche a YouPorn TV Baila Potrebbe chiudere E lasciare disoccupate Più di 380 persone Marchionne Attacca Barbara D'Urso Ci copia il format Di Termini Imerese Fallisce azienda Di Cristian Vieri Buco da 14 milioni di euro L'ex interista Tenta di sfuggire Ai creditori Ma viene beccato Prima che superi Il centro campo Io ringrazio Giulio Scarpatti Per essere stato ospite Con me Grazie a voi Ringrazio Flavio Storica Grazie a Matteo Bordone Oggi festeggiamo Il 100 giorni Il teatro Valle Occupato Noi ci vediamo domani Per un altro Luculliano Gidei Ciao A domani